buon pomeriggio a tutti pietro riglia per investire punto biz 6 marzo il nostro appuntamento con le azioni all'interno del nostro e servizio giornaliero quello dedicato all'azione italiana le azioni americane p trading long e short noi oggi andiamo ad occuparci e lo vediamo sullo sfondo del titolo fineco è una giornata in leggero rialzo per piazza affari fineco fa registrare una performance negativa lo vediamo e con una candela e anche potrebbe essere di inversione e ribassista perché un ingolfing e ribassista nella giornata in cui l'azienda la società ha comunicato i dati riguardanti la raccolta netta del mese di febbraio una raccolta netta che vede praticamente e sfiorare i 900 milioni quasi 870 milioni i clienti totali e superano gli 1,5 milioni ma attenzione perché nel corso del mese di febbraio sono usciti 360 milioni eccoli qui la dire mentre la diretta è pari a meno 360 milioni soprattutto da quegli asset e che non andavano e performance e i ricavi del brokerage sono stimati per il mese di febbraio a 16 milioni quindi un dato in crescita di oltre il 40 per cento che la media dei ricavi tra 2017 e 2019 e per quanto riguarda il gestito il mese di febbraio ha visto 185 milioni da inizio anno visto che la raccolta netta è di 1,6 miliardi il gestito è un po' più della metà 886 milioni andiamo quindi a vedere la reazione la stavamo vedendo la reazione negativa e con ricordiamoci sempre un trend chiaramente rialzista quello presente sull'azione e che si è innescato nel mese di settembre da quanti prezzi valevano 10,40 10,50 nelle ultime settimane abbiamo rotto questo importante trend line rialzista quindi un segnale di debolezza e attenzione dicevamo alla seduta odierna perché la debolezza nel caso punto in cui ci fosse la quest engulfing rialzista potrebbe portare i prezzi a testare i minimi forti supporti minimi degli ultimi mesi l'area dei 15,75 15,80 sotto questi livelli sicuramente si potrebbe intraprendere un'operazione ribassista un'operazione short con primi target i supporti che abbiamo toccato nel mese di dicembre l'area dei 14,70 su questi livelli cerchiamo il titolo andrebbe anche ad avvicinare l'importante media mobile a 200 giorni al contrario l'eventuale fase correttiva il test di area 15,75 15,80 e la tenuta di questi livelli potrebbe innescare un rimbalzo dei prezzi anche se la struttura grafica del titolo andrebbe a rafforzarsi solo con il break dei top che abbiamo toccato nel mese di dicembre l'area dei 17,10 ricordiamoci che sono i top e di periodo per quanto riguarda il titolo fineco l'eventuale appunto superamento dei 17,10 aprirebbe le porte ad ulteriori allunghi per il titolo fineco che potrebbero anche andare fin verso la soglia di 18 euro quindi per ripilogare sotto area 15,80 segnale short con primi target i minimi di dicembre 14,70 14,75 la tenuta del supertrend perché questo abbiamo detto più volte nel nostro metodo operativo l'importanza e la tenuta del supertrend potrebbe innescare un rimbalzo e quindi rischio rendimento abbastanza accettabile sotto il supertrend chiuderemo le posizioni quindi operazione long con ritorni verso i massimi di periodo oltre quali si aprirebbero ulteriori strada rialza avendoci un rafforzamento della struttura grafica fin verso la soglia dei 18 euro e ricordo che è possibile seguire ogni giorno la nostra operatività che mettiamo in campo basta appunto andare a visitare la pagina di investire.biz nella sezione servizi appunto trovate il servizio dedicato alle azioni italiane e alle azioni americane trading long e short basta cliccarlo per scoprire intanto nella pagina centrale e come si svolge il servizio con la mail di metà di inizio giornata dedicata all'apertura sui mercati, la mail di metà giornata dedicata all'aggiornamento dei portafogli, dei titoli presenti nei nostri portafogli, il video commento che si fa insieme agli abbonati a fine seduta e poi segnali operativi che arrivano tramite mail ma anche tramite canale telegram. Nella parte destra potete sottoscrivere il servizio mensile, semestrale e annuale ricordandoci ancora che sul semestrale e sull'annuale c'è ancora un'importante scontistica. Poi cosa molto importante scoprite la performance mensile e annuale dal 2014 da quando quindi il servizio è partito fino ad oggi nelle prossime ore sarà anche aggiornato la performance del mese di febbraio che è risultata su titoli chiusi ancora una volta è positiva. Con questo è tutto l'appuntamento è mercoledì, andremo a scoprire l'innovazione, nel frattempo vi auguro buona giornata, buon trading e quindi a mercoledì.